e tu che sei un po' pipì e dimmi un po' chi è? sono un idraulico ah la stavo aspettando prego entri pure allora dov'è il guasto? c'è una perdita proprio qui dove? proprio qui ma dove? proprio qui accidenti che falla qua bisogna proprio cambiare la guadizione mi sa perde acqua da parecchi giorni l'acqua 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 è importante lo diceva anche talete che l'acqua è la che il principio di tutte le cose chi? talete filosofo presocratico del quinto secolo avanti cristo anzi secondo aristotene il primo filosofo però lei ne sa di cose per essere un idraulico? diciamo che mi intendo di buchi e tubature ma senta visto che è così bravo che ne dice di dare un'occhiata anche qui? dubongo varietà collezioni sexy di filosofia e canzoni per il vostro benessere non è bene dai soliti a sti fraccioni belle crozze e capoccioni e tu che sei un po' pipì e dimmi un po' che c'hai da di Grazie a tutti.